buona sera a tutti questa sera una diretta in notturna insomma la vita invernale inizia a farsi sentire e il vangelo di oggi parla sempre di questo gesù di questo misterioso gesù e diciamo che parla secondo me di una cosa che ci riguarda parecchio perché parla degli adulti e dei bambini quindi di questa strana combinazione che esiste dentro di noi e di come effettivamente accade che quando siamo bambini desideriamo al più presto di diventare adulti e quando siamo adulti desidereremmo tornare bambini e quindi questa cosa diciamo che secondo me è un desiderio una sensazione una percezione assolutamente universale e quindi questa cosa mi rimanda ad un'altra cosa che in fondo a mio parere è il succo del vangelo di oggi e cioè del nostro essere umani assolutamente incontentabili quando siamo piccoli vogliamo essere grandi quando siamo grandi vogliamo tornabarmini e quindi vi lascio questa diciamo pillola per questa notte ormai perché quella giornata sta volgendo al termine ed è quella ci sono state mai delle volte che siamo stati contenti di quello che abbiamo ci sono state delle volte che siamo stati accontentati nella vita oppure continuiamo a a sentirci perennemente incontentabili ciao